Gli anticorpi monoclonali approvati come terapia anti-covid potrebbero essere meno efficaci di fronte alla variante Omicron. Lo suggeriscono cinque lavori appena usciti sulla rivista Nature e condotti dalla Columbia University di New York su tutti i vaccini in uso e sugli anticorpi appunto monoclonali approvati come terapia anti-covid. Intanto anche nelle ultime 24 ore i casi sono davvero tanti. In provincia di Arezzo i nuovi positivi sono 303, 660 in tutto il territorio della ASL Toscana Sud-Est, 259 sono a Siena e 81 a Grosseto. I tamponi effettuati sono 2.304, le persone positive ancora in carico 2.628, 19 i guariti e nessun decesso ma è il dato ospedaliero a preoccupare di più. Oggi le persone ricoverate in bolla covid sono 21 e 4 coloro che sono invece ricoverati in terapia intensiva.